Che dire, sono davvero soddisfatta di questa nomina che mi rende consapevole di quanto lavoro c'è da fare nel nostro territorio, quindi in campo della digitalizzazione. Ringrazio il Polo Digitale Calabria per aver preferito una donna, quindi consapevole della grande responsabilità, accetto la sfida in quanto sono propensa e una divulgatrice di ogni innovazione che possa recare ricchezza culturale e benessere al nostro territorio, alla nostra comunità. Essere la prima donna che fa parte di questo Polo Digitale sicuramente la cosa mi gratifica tanto, però mi riempie anche di una grande responsabilità e perché no anche un po' di timore, però come tutte le cose che faccio con passione penso di portare avanti anche questa sfida che rappresenta per me un grande traguardo. Spero così di poter apportare un contributo a quella che io considero comunque la mia terra, la Calabria. Grazie.